Ancora bocconi killer nei parchi Aretini, questa volta le eschie avvelenate sono state trovate ad indicatore, immediato all'intervento della Polizia Municipale di Arezzo assieme alle guardie zoofide che hanno effettuato un accurato sopralluogo nell'area dove era stata segnalata la presenza di bocconi, che è stata anche perimetrata con un'apposita cartellonistica. Ringrazio ancora una volta, ha dichiarato l'assessore Giovanna Carlettini, la Polizia Municipale e gli agenti che compongono il nucleo operativo di tutela degli animali creato dal comandante Aldo Poponcini e i volontari di OIPA. Continueremo a vigilare su ogni comportamento che costituisca violenza nei confronti degli animali, compreso il rilascio di questi bocconi pericolosi, occorre ribadirlo anche per le persone, pensiamo solo all'eventualità che siano raccolti da un bambino. Invito dunque i cittadini a non esitare a contattare il centralino della Municipale per le loro segnalazioni. In merito a questo caso specifico, conclude l'assessore, vorrei rassicurare la popolazione che, al di là della necessaria attenzione, l'operazione di bonifica è stata conclusa.